Eccoci qui cari amici di Viena Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti, oggi sono qui con la mia bella sudata mattutina ed è bellissimo notare che attorno a casa mia qui non ho ancora trovato il club dei corridori come esisteva nel villaggio a Glammire in Irlanda dove anche le mattine piovose, buie, c'era la gente con la torcia in faccia e ci trovavamo nel paesello a dire anche tu sei un pazzo di prima mattina alle 6. Bene, allora oggi voglio annunciarvi che c'è un'intervista online in cui sono stato io l'ospite e abbiamo parlato di recruitment, abbiamo svelato un sacco di trucchi interessanti è un'intervista in cui mi sono divertito tantissimo, secondo me è andata molto bene, è un'intervista molto fluida in cui sono riuscito a spiegare tante cose che di solito passano inosservate nel mondo del recruitment quindi la nostra buona Ilaria di My Belgian Life mi ha intervistato lei, quindi andate sul suo canale trovate il link qui sotto e da lì fatevi due risate e prendete anche qualche appunto perché secondo me c'è molto da tenere a mente quindi ragazzi godetevi l'intervista sul recruitment e se avete voglia di fare qualche miglioramento al vostro curriculum nella maniera in cui vi presentate fatemelo sapere nei miei servizi, c'è qui il link sotto e da lì ci accordiamo ciao ragazzi, buona giornata